Cari amiche e cari amici, questo è un video molto importante che dovrete assolutamente aiutarmi a diffondere. Parla dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche della relazione che c'è tra questa Organizzazione Mondiale della Sanità che, contrariamente a quanto si possa pensare, è un'organizzazione politica e il disegno di legge Zana Scalfarotto che sta per passare in Parlamento. Vi dicevo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è un organo medico, è un organo politico e nel caso del disegno di legge Scalfarotto decide quali sono gli standard adatti per l'educazione sessuale dei giovani e dei giovanissimi e diffondendo documenti legati in questo caso all'ideologia LGBT, documenti che sono per certi versi veramente inquietanti. La lettura, approfondimento di questi documenti a volte li fa sembrare veramente qualcosa di anti-umano per essere vero. E allora noi possiamo chiederci da dove arrivano? Chi produce questi documenti? Chi è che c'è dietro l'Organizzazione Mondiale della Sanità? E in questo video vorrei proprio mostrarvi alcune connessioni e complicità tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i membri del Parlamento europeo, connessioni che inevitabilmente poi si riflettono nei singoli Stati. Ci sono anche connessioni poi tra organizzazioni non governative e Organizzazione Mondiale della Sanità come ci sono connessioni tra organizzazioni non governative e Parlamento europeo e quindi anche le organizzazioni non governative e loro operato andrebbe monitorato con molta attenzione. Ultimamente hanno fatto notizia proprio gli standard per l'educazione sessuale che vedono in partire un'educazione sessuale basata su una sessualità precoce che vede bambini di 4 anni masturbarsi a scuola e altre stranezze che analizzeremo. L'assunto fondamentale è che la famiglia non sia il luogo idoneo all'educazione sessuale dei bambini, ma è molto più importante lo Stato e le istituzioni che non la diretta educazione della famiglia. Questo, se ci pensate, è quanto è accaduto a Bibiano, dove alcuni giudici insieme con gli assistenti sociali hanno levato i bambini. A volte si è trattato veramente di veri e propri furti per affidarli a famiglie che in alcuni casi erano famiglie omosessuali. Oggi posso dire che è decisamente molto chiaro quali siano gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quali sono i valori che portano avanti. Perché essendo, ripeto, un'organizzazione politica, porta avanti delle ideologie politiche che attualmente sono ostili a quelli che fino a un recente passato erano i valori condivisi alla base della civiltà europea. Quindi nel caso, ad esempio, del disegno scalfarotto, ma il legame dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con l'ideologia gender in realtà risale a decenni. Questo è un progetto che va avanti da decenni, ma che si sta, attraverso proprio il processo di globalizzazione e mondializzazione, si sta affermando adesso in tutto il mondo. Quindi, vi dicevo, sono progetti ostili a quelli che fino a poco tempo fa erano i valori condivisi alla base della civiltà europea, che fondamentalmente, come vedremo, è una civiltà cristiana. Quindi in questo disegno si collocano molti eventi che sono solo apparentemente indipendentemente tra loro, solo apparentemente provenienti da diverse aree e posizioni politiche, oppure posizioni anche sociologiche e etiche. Ed è per questo che, ad esempio, Papa Giovanni Paolo II aveva ribadito l'importanza di introdurre nella Costituzione europea il concetto di radici cristiane, cioè che l'Europa avesse radici cristiane. E questa è una cosa evidente, perché non abbia la mala fede di molti massoni che si opposero, ad esempio, a questa proposta di Giovanni Paolo II, perché l'Europa, fino al Rinascimento, chiamava se stessa la cristianità, definiva se stessa la cristianità, non si definiva Europa. E quindi il Papa propose questo concetto di radici cristiane nella Costituzione e disse questa frase esatta, disse che non si tagliano le radici dalle quali si è nati. Poi è strano perché questa frase fu pronunciata in polacco alla fine della preghiera domenicale. Il Papa stava quasi per andare via, si voltò e disse questa frase in una piazza San Pietro gremita quando tutti non se l'aspettavano neanche più, perché Giovanni Paolo II riteneva fondamentale introdurre questa idea, questo concetto di cristianità nella Costituzione europea e riteneva senza questo concetto una Costituzione mutilata proprio del riferimento delle radici cristiane. Papa Paolo Giovanni II parlava molto chiaro e le sue parole non sono state mai ambigue come quelle di Bergoglio. Giovanni Paolo II difendeva il cristianesimo, nonostante avesse anche lui dei legami con la massoneria, ma questo adesso esulerebbe dall'argomento di questo video. Però era un uomo che amava realmente la Chiesa e parlava molto chiaro, contrariamente al linguaggio ambiguo di Bergoglio, che invece porta avanti le idee sorosiane del nuovo ordine mondiale. Comunque, bisogna ricordare il rifiuto opposto nella formulazione della Costituzione europea all'inserimento delle radici giudaico-cristiane tra i valori fondativi e rinunciabili dell'Unione. Questo intendeva Papa Paolo Giovanni II. E molti non colsero la portata di questo rifiuto, che fu un rifiuto anche, anzi, fondamentalmente massonico. I massoni ingarbugliarono le carte. Ma no, non è giusto mettere le radici cristiane, perché allora vanno sottolineate anche le radici greco, pagane, latine, senza tenere conto che tutto questo era confluito in realtà poi nel Cattolicesimo e nel tempo, nella storia dello stesso Cattolicesimo. E quindi il richiamo da parte dell'Europa alle sue radici giudaico-cristiane è essenziale. Senza che il richiamo ha queste specifiche radici, i cittadini dell'Europa non penseranno mai, con una logica che abbracci l'intera Europa, perché il cittadino europeo non si sentirà mai europeo. Non a caso, ne ho fatto anche una playlist, Benedetto Croce disse perché non posso non sentirmi cristiano, perché, scrisse questo saggio, nonostante fosse laico e fosse ateo, perché attraverso secoli la cristianità è penetrata nella Weltanschauung, nel modo proprio di percepire la realtà degli europei. E' proprio per questo che chi non apprezza e chi non in mala fede vuole escludere le radici cristiane dell'Europa non apprezza proprio il senso della storia dell'Europa e qui di conseguenza anche della propria storia. Per questo il richiamo alle radici cristiane da inserire nel preambolo del trattato non era stata solo una questione accademica, storica, filosofica, ma qualcosa di più, perché era legato al concetto di identità. E oggi, soprattutto in un momento di crisi economica, strettamente legata alla crisi di identità, che, come ho detto tante volte, è una crisi di identità valoriale, quindi spirituale, ancora prima che economica. E' anche detto tante volte che la crisi economica non sarebbe potuta diventare crisi mondiale senza crisi, per quanto riguarda l'Italia perlomeno, di valori e di identità. Infatti l'identità degli italiani si è dispersa in questa globalizzazione incontrollata che ha spazzato via tutto e che tende a spazzare via tutto. Non a caso sono stati cambiati i programmi di storia in tutta Europa, per dirne una, perché i giovani non devono conoscere la propria storia. Non a caso il potere ha favorito un certo tipo di animalismo e il veganesimo, perché non ci deve essere neanche un'identità alimentare. L'identità costituisce un aspetto fondamentale dei singoli popoli, ma anche dei singoli individui. Non perché, ad esempio, dobbiamo fare una guerra contro qualcuno, ma perché, ad esempio, se qualcuno dichiara di voler fare una guerra che sia economica, o che sia di valori, o che sia di religione contro di noi, noi dobbiamo almeno essere consapevoli chi siamo, che per cosa combattiamo e cosa dobbiamo difendere. E qui faccio rientrare il disegno di legge Zanna Scalfarotto, che va inserito in questo attacco frontale al sistema di valori cristiani. Un attacco frontale che vuol proprio eliminare il riconoscimento delle radici cristiane. Quindi un'affermazione di un laicismo estremo, nel senso di un laicismo che propugna una completa indipendenza e autonomia dello Stato nei confronti di qualsiasi confessione religiosa, anche gerarchicamente organizzata, ma nel caso specifico della legge Zanna Scalfarotto, vuole calpestare e negare qualsiasi diritto a chi si oppone a questa legge liberticida, che vuole sottrarre praticamente la patria potestà ai genitori per affidarla a uno Stato che è uno Stato inaffidabile e molto vago in questo momento. Pensate solo da quanto tempo ci impediscono di volare, e se questi valori fossero stati invece specificati, scolpiti nella Costituzione, i singoli Stati avrebbero avuto grandi difficoltà nel proporre al Parlamento europeo qualsiasi proposta di legge che ad esempio non tutelasse il valore della famiglia, intendo dire della famiglia tradizionale, ma che portasse acqua al molino delle strategie LGBT. E qui una cosa importante, per quello che dico diffondete, aiutatevi a diffondere questo video, perché il cosiddetto uomo della strada, che ha passato questo periodo in quarantena, terrorizzato da questo continuo martellamento di mass media, è ancora terrorizzato, perché questi traumi non è che guariscono da un momento all'altro, da un giorno all'altro, non basta levarsi la mascherina per risolvere il trauma di questo martellamento e condizionamento, durato giorni, 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 morirete, ci sono morti, aumentano i morti. E quindi l'uomo della strada, ancora abbattuto moralmente da questa lunga quarantena, non si rende minimamente conto di quanto sia pericoloso per la libertà di tutti questo documento sconcertante, anche perché è proposto poi sotto una visione molto buonista, difendiamo gli omosessuali dall'omofobia, difendiamo gli omosessuali da forme di razzismo, ma in realtà già ci sono leggi che difendono sia gli omosessuali, sia gli uomini e le donne di colore, già ci sono adesso in realtà. Quindi questo DDL Scalfarotto, nascosto dietro a questo buonismo meloso a difesa delle discriminazioni nei confronti della comunità LGBT, nasconde una vera mutazione antropologica, è questa la realtà, le cui nefaste conseguenze si riverseranno, in particolare sui nostri figli e nipoti, che dovranno subire l'effetto di una sessualizzazione precocissima, che vedrà, per dirne una, bambini di 3-4 anni già masturbarsi davanti agli altri bambini. E quindi basta dare un'occhiata a questi standard per l'educazione sessuale, che, seppure ideati e scritti alcuni anni fa, il progetto risale alcuni decenni fa, Mario Mieli, che fu uno dei teorici dell'ideologia LGBT, negli anni 70 esaltava la distruzione della famiglia, lui era anche per la coprofagia, mangiò in pubblico gli escrementi del proprio cane, era anche per una sessualità liberata a tal punto che ammetteva rapporti necrofili, cioè tra viventi e morti. Insomma, in questi ultimi mesi del 2020, dopo tutto questo allarme per la pandemia, persone terrorizzate e quindi anche poco lucide, sono il tempo propizio per l'approvazione di queste leggi, che non farebbero altro che estendere lo scandalo di Bibliano a tutta Italia, legalizzandolo. L'assunto base del testo è che la famiglia non è il luogo idoneo alla sana e scientifica rieducazione sessuale dei bambini. Questa era anche l'ideologia, se ricordate, portata avanti dal centro Ansel e Greteli, da coloro che in ogni caso sottrassero i bambini alle loro famiglie d'origine. E sottolino la parola bambini, perché l'educazione sessuale si rivolge a tutte le età e siccome la famiglia va destituita da questo tipo di educazione, l'educazione sessuale dovrà ricadere su apposite istituzioni, quindi su corsi scolastici, che provvedano, secondo la visione di chi li ha redatti, a un'educazione liberatoria che abbia alla base la scienza e la ragione. Uno strano concetto però di scienza e di ragione, che dovrebbero imporre di liberare i fanciulli, fin da piccolissimi, dai tabù della società. Quindi insegnare loro, ad esempio, la masturbazione fino dai quattro anni di età, a otto anni l'uso del preservativo e via di questo passo, trasformandoli un po' alla volta in individui totalmente liberati da qualsiasi tabù sessuale e di conseguenza felici. E questa scienza e ragione coincidono, non a caso, con il pensiero unico e non dimostrato, che però deve essere accettato con l'imprimatur, ed ecco che ritorniamo all'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che, come ribadisco e sottolineo, è un'organizzazione politica, nonostante il nome. Perché molti magari immaginano scienziati, medici con il camice, con gli strumenti di lavoro che stanno lì ad analizzare. No, è un'organizzazione politica. Spesso le decisioni si prendono per alzata di mano, anche proprio riguardo alle scelte sanitarie che influenzeranno interi stati. E quindi un'organizzazione politica che di scientifico ha ben poco, ma ha molto a che vedere con i finanziatori di questa organizzazione politica. È come una sorta di società per azioni. Il grande finanziatore, mettiamo, che produce vaccini, sarà facile per lui far fare una scelta politica all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio di far vaccinare un intero popolo perché incombe un specifico pericolo a suo parere. E quindi un'organizzazione che impone vaccini, che impone comportamenti sanitari, portate le mascherine in questo periodo, dolevatevele adesso. E appena ci sono molte salatissime, c'è l'isolamento sociale, ci sono stati anche casi di TSO, trattamento sanitario obbligatorio, cioè vi sedano e vi legano un lettino, come è stato nel caso Mussi, non è stato l'unico caso, ne ho parlato anche come non sia stato l'unico caso su questo canale. E in alcuni casi anche la galera. Perché se un bambino dice alla propria maestra che per lui non va bene che ci sono due uomini che fanno da papà e mamma o due donne che fanno da papà e mamma perché la famiglia deve essere una fatta da papà o da uomo, donna e bambino, e la maestra gli chiede ma chi ti ha detto queste cose? E il bambino risponde me le hanno dette mamma e papà? Ebbene, quel bambino potrebbe essere levato dall'istituzione, cioè l'insegnante potrebbe avvertire le assistenze sociali che attraverso colloqui con il bambino potrebbero, esattamente come hanno fatto Bibbiano, levare il bambino alla famiglia e questi da un giorno all'altro andando a ritirare il bambino a scuola non lo troverebbero più. Quindi le pene sono salatissime che comprendono anche fino a sei anni di galera, attenzione, per omofobia. E uno dei modi di reagire a tutto questo marcoingegno assurdo è l'informazione. Per questo vi invito a condividere questo video già sapendo che potrebbero già adesso mi hanno penalizzato ultimamente mi hanno ribloccato le iscrizioni mi hanno cancellato dei video forse cancelleranno anche questo diffondetelo il più possibile. Ma comunque, voi stessi relativamente all'informazione riguardo alla OMS Organizzazione Mondiale della Sanità potete fare un piccolo esperimento. Chiedete a qualche volta il vostro amico conoscente se è al corrente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prende le sue decisioni non per ricerche mediche, per esperimenti di laboratorio, ma per interessi finanziari e politici e a volte per alzata di mano come si fa in una riunione politica. Sentite cosa vi risponderanno. Perché l'uomo della strada ritiene che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo vertice mondiale della scienza medica, sia appunto un insieme di scienziati, di specialisti e attenzione, perché molti poi, essendo un'organizzazione politica, utilizzano il logo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e molti, ad esempio testi che verranno diffusi per i corsi nelle scuole, così riportano vari tipi di logo legato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, il logo riportato magari in copertina solo per poter vantare una patente pubblica di scientificità, solidità e prestigio rispetto ad esempio a un corso fatto a scuola, per dirne uno. Quindi la decantata rappresentatività degli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità include ben 11 paesi, peccato che, per fare proprio un esempio, l'Ufficio per l'Europa di questa organizzazione abbia come area di riferimento l'intera Eurasia, della quale fanno parte 53 paesi. Adesso non voglio ingarbugliare il discorso perché voglio essere il più semplice possibile per farmi capire, per far divulgare il video e affinché lo possiate anche divulgare nei discorsi tra i vostri amici. Quindi elimino tutta una serie di intrecci burocratici, di sigle, di loghi che vengono utilizzati che potrebbero confondere le idee. Fatto sta che ci sono state una serie di workshop, come li chiamano loro, in questi ultimi anni, che hanno ospitato esperti, a parer loro esperti, di diverse organizzazioni allo scopo di dare e soddisfare quella che sempre, secondo loro, è un'urgente e molto sentita esigenza, cioè quella di definire delle linee guida per l'educazione sessuale libera e indipendente, scientifica e razionale per i bambini, al fine di consentire la liberazione di bambini, fanciulli e adulti dai pregiudizi e vincoli in materia sessuale per vivere una sessualità felice e liberata perché secondo l'ideologia gender io la mattina posso sentirmi uomo, il pomeriggio donna, perché non è importante la nostra fisiologia, ma è importante la nostra apertura mentale per godere una sessualità liberata che non ha limiti e non ha confini. C'è stato un documento nell'anno 2010, che è quasi una fotocopia di un successivo documento del 2006, anche se prima accennavo a Mario Mieli siamo negli anni 70, pensate a questo progetto da quanti anni sta andando avanti. Vi dicevo che questo documento, secondo il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa, dovrebbe costruire la base di una discussione con il rappresentante di vari Stati membri nel corso di un'apposita conferenza continentale. Questo l'avevano detto nel 2010, ma questa conferenza non è mai stata convocata, nessuna discussione plenaria è mai avvenuta, un documento ambiguo che si presta a diverse interpretazioni e viene sibillinamente edito con impresso, eccolo lì, il logo Organizzazione Mondiale della Sanità. Non voglio dilungarmi anche qui sulla storia di questo documento, chi vuole poi farà delle ricerche in internet, perché tengo, per concludere, a sottolineare quattro punti fondamentali, che sono quelli che dovrete sapere bene per poter divulgare anche con i vostri amici, parenti, quello che sta accadendo. Uno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è un organo medico, è un organo politico, e proprio in base a scelte politiche legate a varie ideologie di lobby, decide se e quando dobbiamo, ad esempio, portare le mascherine o levarcele, proteggerci dal Covid, se e quando la diffusione è diventata pandemia, se dobbiamo vaccinarci, e nel caso del disegno di legge Zansk al Farotto, quali devono essere gli standard adatti per l'educazione sessuale dei giovani e dei giovanissimi, diffondendo un documento, per certi versi, micidiale, perché appunto è un'educazione sessuale veramente precoce. Due, non c'è bisogno di una sfera di cristallo per comprendere il disegno complessivo che sottostà, e solo apparentemente diverse azioni poste in essere nel tempo in Occidente da questa Organizzazione Mondiale della Sanità. Terzo punto, è giunto il momento di smettere di subire questo lavaggio del cervello e di diventare protagonisti anche attraverso delle forme di ribellione non violenta, ad esempio, a queste politiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che purtroppo sono amplificate dai vari mezzi di comunicazione, pennivendoli di Stato, che devono dire l'ultima parola. A me hanno cancellato un sacco di video, sono stati cancellati vari canali, anche il mio canale è uno di quelli a rischio e preso di mira. Quattro, è un dovere di ciascun uomo e di ciascuna donna sventare questi ripetuti tentativi di educare i nostri figli a una sensualizzazione precoce che non corrisponde affatto ai bisogni della loro età e alle curiosità della loro età. Quindi un'educazione fatta di menzogne e le menzogne le potete ripetere migliaia di volte ma non diventeranno mai una verità ma potranno distrutturare e favorire disturbi psichici e soprattutto crisi di identità perché la privazione dell'identità che il nuovo ordine mondiale vuole è al fondamento delle scelte del nuovo ordine mondiale perché, per fare un esempio banale, a una donna che porta il burca islamica se gli vuoi vendere i jeans gli devi far perdere l'identità e questo vale per tutto. Quindi queste forzature ad esempio tornando al disegno di legge che Scalfarotto coperto da questa sorta di no attenzione per l'omosessuale per via il razzismo così si nasconde ben altro come avrete potuto capire poi fate molta attenzione al termine genere o gender perché è quello che vuole sostituire a sesso proprio per indicare che non si è maschio o femmine ma si può essere di ben sette generi diversi possono variare possono anche aumentare nel tempo quindi questo è il cuore del problema l'attacco finale alla natura dell'uomo in quanto tale il discorso del cristianesimo si è voluto colpire nel cuore proprio per far strada a tutto questo tipo di ideologie anticristiane e anticristiche Bergoglio favorisce tutto questo vi faccio notare e e quindi sono menzogne che non sono fondate sulla realtà e quando tutto sarà reso poi indifferente tutto sarà mescolato sarà decostruito e allora l'avranno vinte tutto sarà possibile ma noi anche se ormai loro hanno il coltello dalla parte del manico e sono fortissimi ad esempio nel mio caso potrebbero chiudermi il canale da un momento all'altro continuiamo a lottare insieme aiutiamo i nostri figli freniamo la menzogna e ricordate che dopo l'approvazione del DDL Zanscalfarotto io che vi sto parlando potrei solo per aver detto le parole di questo video rischiare anche la galera quindi aiutatemi diffondete il video se poi ritenete che il mio lavoro meriti un incoraggiamento fate anche una piccola offerta per il canale un pollice su per il mio lavoro sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo grazie a tutti